Hanna Enrico Rossi, Gehata Toscana, desidero fare alle cittadine e ai cittadini arabi i migliori auguri di benvenuto in questa regione, perché anche quest'anno, lo so, sarete migliaia a scegliere la nostra splendida regione come meta per le vostre vacanze. La vostra presenza qui è un atto di fiducia verso un paese come l'Italia e come la regione ed è un atto che ci riempie di orgoglio e di speranza per il futuro. Ovviamente percorrerete gli itinerari più belli, visiterete le città d'arte splendide come Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Lucca e tante altre città e cittadine della Toscana. Ma voglio dare un consiglio personale a chi verrà qui dal mondo arabo. Tra i posti più belli vi consiglio le zone della Maremma e tutto il litorale della Toscana per scoprire anche le parti meno note ma altrettanto belle della nostra regione. Penso al parco naturale della Maremma ma anche all'arcipelago toscano, una delle zone più belle e protette del nostro paese con un parco nazionale splendido che la Toscana offre a tutti i cittadini e a tutte le persone che provengono dal mondo arabo. Per ulteriori informazioni potete anche contattarmi sul mio blog ilsignorrossi.it potete scrivermi, io vi risponderò e sono disposto a darvi ulteriori consigli. Venite a passare le vostre vacanze in Toscana e un saluto caro a tutti. Va salami l'alcol Enrico.